Paolo Marozzi, candidato a sindaco di Tavoleto, un nuovo partito, partito gay, come mai avete scelto proprio Tavoleto visto che non siete dalla zona? Allora, abbiamo scelto Tavoleto perché a prescindere da dove veniamo, crediamo che le nostre competenze possano essere attuate in qualsiasi piccolo borgo comune e non ci siamo candidati solamente a Tavoleto ma in tanti altri comuni perché crediamo appunto al rilancio dei piccoli borghi. Più che un movimento abbiamo alle spalle un partito vero e proprio, nato da poco, ma che ha già un assessore in uno dei comuni più piccoli d'Italia e come dicevo prima si è candidato in altri paesi, circa 60 comuni in tutta Italia, quindi ovviamente oltre all'inclusione sociale c'è anche il rilancio dei piccoli borghi e la valorizzazione del territorio. Quali sono i punti principali della vostra campagna elettorale? Per quanto riguarda Tavoleto, noi non vogliamo assolutamente che i giovani vadano via da Tavoleto, quindi il primo punto fondamentale è quello di coinvolgerli tramite dei servizi civili e quindi farli rendere utili per la società, per gli anziani soprattutto e per tutto quello che riguarda l'aspetto socio-culturale del territorio. Abbiamo anche in mente di aprire una casa di cura e accoglienza per gli anziani. Vogliamo rivalorizzare il territorio, la parte del Villa Fuini che abbiamo perlustrato il loco e che riteniamo appunto che sia un ottimo posto, un ottimo paesaggio per trekking e scampagnate a cavallo. Ovviamente attingeremo a tutti i fondi del PNRR per riqualificare sia l'aspetto sociale che culturale e artistico di Tavoleto e vorremmo riportare l'acqua dalle sei fonti tavoletane appunto al paese, che questo mi sembra già una grande cosa e vorremmo approfittare del fatto che appunto Pesaro è stata eletta come città della cultura europea in 2024 e approfittare appunto di questa elezione per lavorare in sinergia col territorio di Pesaro. Ci sono tante strutture a Tavoleto sfitte o comunque in vendesi che a nostro avviso potrebbero essere usate sia a scopo artistici che turistici anche non so magari coinvolgendo Erasmus+, piuttosto che Gemellaggi. Partiamo dal presupposto che noi fondiamo tutta la nostra campagna elettorale sulla comunicazione. Come dicevi tu, non siamo del posto, quindi ci siamo affidati a delle persone di fiducia che vivono Tavoleto a 360 gradi perché sono di lì. Quindi c'è stato proprio uno scambio di energie e di opinioni, ci hanno aiutato molto a capire degli aspetti che noi ovviamente non saremmo mai riusciti a capire se non avessimo avuto il loro supporto. Quindi sì, è proprio uno scambio di idee, di pensieri e soprattutto di dialogo.